ciao sto per vivere tre giorni senza la tecnologia senza il cellulare ma per me non è una cosa così complicata nel senso che è un qualcosa che faccio molto volentieri visto che comunque tutti i giorni sono bombardata da mail telefonate messaggi e quant'altro quello che vorrei stuzzicare in te con questo video è proprio quello di imparare a fare silenzio imparare a fare silenzio nella tua vita intorno a te affinché tu possa veramente ascoltarti l'ascolto è veramente una cosa importantissima per imparare a comprendere chi tu sei e che cosa è importante per te se non ti permette di fare silenzio e di fermarti quello che accade è che tutto diventa più importante di te perché comunque ci sono c'è la vita ci sono gli impegni ci sono quelli che alcune persone chiamano doveri ed è come se tu mettessi tutto al primo posto rispetto a te e questo cosa comporta comporta che perdi la parte più importante di te e fondamentale te stesso attraverso un po di silenzio puoi rimparare ad ascoltarti e a trovare quella pace che deriva dall'incontrare te stesso nell'incontro con te stesso potrai anche sicuramente incontrare delle parti di dolore delle potrai sentire delle cose che normalmente alcune persone non vogliono sentire quindi si creano una vita compulsiva per non sentire il dolore e per non sentire quello che le parti più profonde di te vogliono dirti ma questo non funziona perché quel disagio permarrà in te per sempre invece se tu ti permetti di fermarti un attimo di fare silenzio di ascoltarti incontrerai quelle tue parti e ti permetterai di andare oltre quello stato di dolore che è presente dentro di te ti abbraccio e ci vediamo fra qualche giorno ciao